Musica Bella a tutti i miei slime qui Al Bentornati nel mio canale Siamo oggi tornati qui con un nuovo video E questo sarà il primo che darà inizio alla nuova serie Che poi non è una nuova serie ma la vecchia un po' modificata E ovviamente prima di cominciare il video Vi spiego un po' cosa cambierà Essenzialmente il video di prima era un video che usciva il giovedì Per annunciare le uscite della settimana Quello che cambia è che in questo video Noi abbiamo già modo di discutere Delle uscite della settimana insieme Andando a capire cosa mi è piaciuto e cosa no e perché Ovviamente per far sì che questo sia possibile L'uscita del video è spostata dal giovedì a lunedì martedì Sto cercando ancora di organizzarmi Quindi non vi so dire bene un giorno Appena lo saprò e troverò un mio equilibrio Ovviamente ve lo dirò Ora però ho visto che qualcuno è rimasto deluso Dal fatto che non continuerò più la serie in quel modo Per rimediare a questo piccolo inconveniente Ho deciso che comunque il giovedì le uscite le annuncerò Solo che non su YouTube ma tramite una storia su Instagram Quindi colgo l'occasione per dirvi di seguirmi Se siete interessati alle uscite O comunque io su Instagram annuncio anche i video Qualche volta magari vi chiedo qualche parere Quindi insomma se siete interessati in generale al canale Io vi consiglio di seguirmi Tanto refollowo tutti Ora andiamo a scoprire i progetti che sono usciti in questa settimana Per quanto riguarda la situazione in Italia Non ho selezionato nulla Non c'è nulla che mi sia piaciuto E quindi per questa settimana è andata così Per quanto riguarda l'America invece Ci sono diverse uscite interessanti Nulla di particolarmente importante O comunque hypato Però ho trovato diversi progetti che mi sono piaciuti Tanto per rimanere in tema New York Drill È uscito un featuring di Favi Foiren La traccia si chiama Rounds Ed è di Calboy Segue molto la Wave Drill di Brooklyn E devo dire che l'ho apprezzata abbastanza Calboy in generale è un artista che non mi piace un granché Ho ascoltato poca roba e quella roba non mi ha fatto impazzire Però devo dire che su questa traccia mi è piaciuto anche lui In generale sta bene sul beat ed è una cosa che secondo me non riesce a tutti Perché non tutti i rapper riescono a cavalcare beat del genere Lui invece devo dire che fa una bella figura Dalla copertina della traccia si può dedurre che sia la seconda Della Deluxe Edition di Long Live The Kings Che è il nome dell'EP di Calboy uscito quest'anno Secondo estratto perché la settimana scorsa è uscito un altro singolo Favi invece caccia uno strofone Sempre col suo stile E devo dire che in questo 2020 non ha sbagliato veramente una traccia Se vi piace la drill di New York vi consiglio di ascoltare questa traccia In modo tale da non perdervi la strofa di Favi Rimaniamo in tema drill ma spostiamoci di città Infatti andiamo a Chicago È uscita la Deluxe Edition di Just Cause You Awaited 2 di Lil Dark A me già la prima parte ha fatto impazzire Ha cacciato veramente un progetto interessante E purtroppo poi non ha avuto tutta l'attenzione che effettivamente si merita La Deluxe in particolare è composta da 8 tracce E non c'è nessun fit Questa la trovo una scelta molto singolare e che comunque apprezzo Perché in un periodo come questo che escono Deluxe Edition Che praticamente costituiscono album a parte E magari gli artisti ci mettono in mezzo qualche nome importante in modo tale da fare hype Lil Dark ha deciso di uscire con queste 8 tracce Solo lui che vanno a completare un progetto che già prima era ottimo Questa probabilmente è l'uscita che poi mi è piaciuta di più questa settimana E vi consiglio assolutamente di non perdervelo Soprattutto se non avete ascoltato l'album effettivo Recuperatevelo e fidatevi di me Un altro progetto che ho ascoltato e apprezzato questa settimana È il nuovo EP di Black Non vi dico il nome perché non so pronunciarlo Ve lo lascio scritto sotto Ed è un EP formato da 6 tracce Ora come avete notato l'ho pronunciato Black Perché effettivamente è la maniera in cui si pronuncia il nome Ribadito anche da lui stesso Io in primis ammetto che ogni tanto mi viene a chiamarlo Six Lex Ma perché secondo me suona un sacco bene Però ripeto l'artista ha specificato più volte che si pronuncia con la B Quindi quel 6 va visto come una B Comunque torna con questo EP che è uscito il giorno del suo compleanno Dopo un po' di tempo che non rilasciava nulla Il suo ultimo album è stato East Atlanta Love Letter Che onestamente a me non è piaciuto più di tanto Ho apprezzato molto di più il primo Free Black E lui ha una wave davvero chill Secondo me è bravo Alti e bassi ma è sicuramente un artista in gamba Un solo feat per questo EP Ed è Lil Baby Che ha cacciato uno strofone Tanto per cambiare Visto che sta dominando in contrastato quest'anno Veramente un anno da ricordare per Lil Baby I due sono abbastanza lontani nel sound Nel senso che uno fa una roba sicuramente più street Più trap Mentre l'altro sta su una wave sicuramente più chill Però si mescolano molto bene in questa traccia Ed entrambi riescono a dare il meglio In generale nell'EP ho trovato un paio di tracce Che mi piacciono molto Con un sound molto figo Molto particolare E un altro paio di tracce Che mi sembrano un po' la solita roba che fa Black Nel complesso l'EP mi è piaciuto Quindi vi consiglio assolutamente di ascoltarvelo Magari se vi volete convincere Ascoltate la canzone con Lil Baby E se la traccia vi mette curiosità Ascoltatelo tutto Tanto essendo un EP non perderete neanche troppo tempo Ad Atlanta invece Lil Got It è uscito con il suo nuovo singolo What It Was Fit Future La seconda collaborazione tra i due La prima è stata nell'ultimo album di Lil Got It With Baby 2 Nella traccia Yeah Yeah Che vanta la presenza anche del fratello Lil Kid Se in parte questa traccia mi aveva un certo senso deluso Perché io dovete sapere che sono super fanboy di Future E vabbè quella è una cosa risaputa Ma anche Lil Got It mi fa impazzire Quindi io quando ho saputo di questa traccia Poi con la presenza anche di Lil Kid Diciamo che il mio hype è cresciuto in maniera sproporzionata Poi andandola a sentire Ok sicuramente è una bella traccia ed è forte Però mi aspettavo qualcosa di più Quel qualcosa di più invece l'ho trovato in questa traccia Che è veramente un missile Io sono super curioso di sentire altre collaborazioni di questi due Perché non mi potrei davvero mai stancare Poi sono davvero contento per Lil Got It Perché comunque avere un featuring con Future Non è una cosa proprio da tutti Ora non so se questo singolo è il primo estratto di qualche progetto È giusto un singolo così Quello che so è che tempo fa Lil Got It annunciò Crazy Buddy Strew 2 Quindi il secondo volume del primo Uscito nel 2019 Chissà se ne arrivo quest'anno Sappiate che comunque se dovesse uscire entro quest'anno Sarebbe il terzo album di Lil Got It nel 2020 Siamo praticamente solo a sei mesi dall'inizio del 2020 Quindi veramente assurdo L'ultimo progetto che ho selezionato e ascoltato e apprezzato per questa settimana È un mixtape Sto parlando di New Mania degli 8080 Glam In caso in cui non li conoscesse è un duo Composto da Camino e Derek Wise Questo si può considerare la sorpresa della settimana Perché era il progetto per il quale non è che avessi chissà quale hype Però è quello che mi ha sorpreso di più In quanto mi è piaciuto praticamente tutto Loro hanno insordito nel 2017 Con il loro primo album ufficiale Intitolato come il nome del duo 88 Glam Successivamente nel 2018 è uscito il secondo volume E ora tornano con questo mixtape Le loro principali hit sono in collaborazione con Nev Tra di loro c'è davvero un buon affiatamento Infatti pensate che Nev è presente in entrambi i capitoli di 88 Glam Tuttavia non c'è in New Mania Che è un album composto da 18 tracce Con un solo feat Young Bane Il progetto secondo me ha un sound veramente figo e particolare In generale penso che questo duo nel fare quello che fa Lo fa veramente bene Alternano banger a canzoni un po' più chill Poi ripeto con un sound veramente figo E che non vi saprei neanche descrivere Se volete capire di cosa sto parlando andatevelo ad ascoltare Io tra i due preferisco Camino Ma perché mi piace molto di più il suo immaginario Anche la sua voce e come usa l'autotune Per oggi direi che possiamo concludere qui il video Ho selezionato questi progetti Diciamo che come primo episodio voglio partire un po' più shallow Vediamo con i prossimi Fatemi sapere con un commento se vi piace questa nuova serie Se cambiereste qualcosa o qualsiasi altra cosa Scrivetelo nei commenti Compreso anche il progetto che vi è piaciuto di più questa settimana Vi invito a lasciare un mi piace Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto Condividetelo con gli amici In modo tale che possono scoprire i progetti che sono usciti questa settimana E quali effettivamente meritano Iscrivetevi al canale Qualora non lo foste E se lo siete già Attivate la campanella In modo tale che ogni volta che carico un video Vi arriva la notifica E potete guardarlo Noi ci vediamo con un prossimo video Slat Ciao